E' stata partorita viva la neonata trovata morta ieri accanto al contenitore dei medicinali scaduti della farmacia di San Martino a Campi, Bisenzio, nell'Interland fiorentino. E' quanto emerso dai primi risultati dell'autopsia in base al quale è stato accertato che la piccola, prima del decesso, aveva respirato aria. Per conoscere le cause della morte occorrerà comunque attendere l'esito degli analisi sui campioni prelevati dai carabinieri. L'esame autoptico, iniziato in tarda mattinata e terminato nel pomeriggio, è stato eseguito da un medico legale e da un anatomopatologo esperto in neonati. Secondo gli inquirenti la piccola sarebbe stata abbandonata nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Il borsone in tela di colore rosso scuro, dentro il quale c'era la neonata, sarebbe stato notato già nella giornata di lunedì da almeno un testimone. Proseguono intanto le indagini per risalire a chi l'ha abbandonata. Oltre all'analisi delle telecamere e alla verifica di eventuali accessi ai pronto soccorso per disturbi che la madre potrebbe avere accusato dopo il parto, risposte potrebbero arrivare ad eventuali tracce di DNA estrapolate sulla borsa, oltre che sul maglioncino che indossava la piccola e sulla coperta di pile nella quale era avvolta. Forse chi l'ha abbandonata voleva che la trovassero e la salvassero. La piccola era stata protetta con una copertina di colore avana, aveva un golfino paricollo nero e la cerniera della borsa era stata chiusa a metà, per coprirla dal freddo ma allo stesso tempo per consentirle di respirare. La procura intanto ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di infanticidio. L'idea degli investigatori è che ci si trovi di fronte a una storia di degrado sociale e di ignoranza. Chi l'ha lasciata vicino alla farmacia non solo non sapeva che sarebbe stato possibile farla nascere in ospedale in incognito e poi decidere se darla in adozione, ma che proprio a Firenze ci sono due culle termiche dove è possibile portare il neonato con la certezza che sarà accudito immediatamente.